Un prestito di 40.000 euro con tasti di interesse annuo fino al 132%, tre appartenenti al clan camorrisico Fagnozzi, storicamente insediato in Valle Caudina, sono stati arrestati all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e il Tribunale di Napoli, su richiesta della procura della DDA. I tre indagati, di età compresa tra i 62 e i 70 anni, sono accusati di usura ed essorsione aggravati dal metodo mafioso. Tra il 2021 e il 2022 incassavano interessi usurari da due imprenditori della zona, a cui avevano prestato in più occasioni somme complessive per 40.000 euro, nonostante la somma finale da restituire restava immutata. Due arresti sono stati eseguiti a Cervinara, tra questi anche una persona imparentata con i Pagnozzi, il terzo in provincia di Caserta. Il clan Irpino, che nel corso degli anni ha allargato la sua zona di influenza, soprattutto nel Lazio, dopo la morte del capo storico Gennaro Pagnozzi, detto Uggiaguaro, secondo gli investigatori vede al vertice del figlio Domenico e a sua volta arrestato cinque anni fa a Roma e attualmente detenuto. Per due degli arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari, per il terzo indagato gli sono invece aperte le porte del carcere.